Una nuova puntata di Napoli e 1000 interviste con chi se non con la guest star Pulcinella Uè uè sono Pulcinella, sto incontrando tutte le turiste che vengono a Napoli Quenzo Costanzo che dice che presenta Pulcinella Per e beh, per e beh, per e beh Siamo di Brasile Brasile Samba, samba, samba Samba contro Tarantella, vai Viva Brasil Viva Napoli What is Julio E' Clementino, Clementino Where are you from? Filippins Filippins da Patricia Billepi chi èorest? be Depending basically and served Giri Falco Dove? Giri Falco uni Su タ stai vicino a Falc, un saluto ai russi sempre vieni a Napoli grazie arrivederci ma da cascata ma da cascata ma quando casca vuol direi ma quando casca cofì 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 pochi di pesce beautiful city beautiful city beautiful city poi è un'altra cosa che siamo a mangiare è beautiful city ahahahah non ho capito amico mio come stai tutto bene come ti chiamati io con pulcinello con pulcinello con pulcinello nero però devi sapere che lui parla anche in napoletano di una frase in napoletano non mi rompo i ragazzi non mi rompo i ragazzi un saluto saluto a tutti i malgaches di dittadini e come sono i napoletani? sono speciali, sono eccezionali io amo questa città che è piena di vigore di amore e di accoglienza io in tre mesi ci sono venuta quattro molte abbracciamo la signora pulcinello è caduta la farfalla uno 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 vediamo se riuscirà a vendere pulcinello qualcosa vediamo tre quattro quattro no sono quattro non so tre quattro 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 cinque cinque quattro cinque quattro cinque guardate parlamo una figa per il pepe per il pepe per il pepe ce le pilli 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 più più